Quanto è importante la grammatica in via del corso? È fondamentale ma senza risultare pesante. Infatti è presentata in modo che gli studenti la scoprano attraverso l'uso pratico della lingua. Non si tratta solo di memorizzare regole, ma di capire come funziona la lingua in contesti reali. Questo rende l'apprendimento più intuitivo e meno tedioso. Inoltre gli studenti si sentono più a loro agio nell'usare la lingua in varie situazioni. Nel corso dell'unità gli studenti sono guidati e invitati a fare delle riflessioni, ad avanzare delle ipotesi, a completare le tabelle, a giocare con le nuove regole. Per la sistematizzazione gli studenti possono ricorrere alla breve sintesi grammaticale a fine unità e all'approfondimento grammaticale in appendice dove troveranno più spiegazioni ed esempi. Inoltre sulla piattaforma idee sono disponibili supplementi che spiegano la grammatica dei primi volumi in diverse lingue. Infine, studenti e insegnanti hanno accesso alla grammatica interattiva su idee, un tutor che spiega ogni fenomeno in maniera semplice e visuale.